buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio allora sono in debito di almeno un paio di video dunque come ogni settimana stavolta parliamo di calcio facciamo il punto sui campionati esteri iniziando dalla premier league allora si è giocata la quinta giornata in inghilterra e non senza sorprese la più grossa delle quali e la sconfitta a norwich del manchester city allora sì è un risultato sorprendente ma non dicono che ci si poteva aspettare ma non sorprende più di tanto perché come ho detto qualche video fa rispetto agli anni scorsi rispetto agli anni scorsi quest'anno city e liverpool che sono le le due squadre nettamente più attrezzate delle altre per primaggiare in inghilterra secondo me si sono hanno invertito i loro obiettivi il liverpool come ben sapete campione d'europa il manchester city l'anno scorso ha stabilito una sorta di record ha vinto tutte le competizioni nazionali premier league e fake up e coppa di lega ecco stasera forse stasera inizia la cempio stasera domani cominceremo avere le prime risposte allora il siti ha perso 3 a 2 i siti secondo me quest'anno punterà decisamente la champions league perché è il reduce da due vittorie consecutive ha vinto negli ultimi sette anni mi sa che ha vinto quattro titoli una cosa del genere si ha vinto quattro titoli si negli ultimi sette anni ha una squadra molto forte specialmente dal centro campo in su e secondo me punterà decisamente alla coppa campioni guarda a caso questa sconfitta di norwich quanto quando arriva arriva prima della champions league oddio il girone che ha preso cioè secondo me la squadra più temibile per il siti all'atalanta nel girone nel girone del siti però nell'inconscio forse forse siti alla testa più alla champions league ha commesso ha preso tre gol praticamente con tre contro piedi il 22 contro piedi una colossale fesseria dalla difesa buon per il norwich che una di quelle squadre che si deve salvare è partita molto bene diciamo solite fesserie non ci interessa allora dicevamo del siti che adesso è staccato di cinque punti dopo cinque giornate già staccato di cinque punti dal liverpool liverpool che le vince tutte ecco rispetto agli altri anni secondo me quest'anno il liverpool il liverpool punta decisamente a rivincere la premier league raga il liverpool la squadra più titolata con manchester united d'inghilterra e soprattutto quella che in campo internazionale ha vinto di più il liverpool cioè non vince il campionato dal 1990 un'eternità cioè lo scudetto della sampdoria più recente dell'ultimo del liverpool cioè stiamo parlando di questo e ragazzi miei stiamo parlando di questo in champions oggi fa l'esordio niente proprio di meno che a napoli ma ma la vedo una partita da 1 2 quella perché se il liverpool gioca come sa può tranquillamente vincere in casa del napoli napoli che come ho già detto ha una difesa un po ballerina tornando alla premier il liverpool ha vinto dopo essere andato sotto in casa con newcastle ha vinto con due gol di quel gran giocatore perché mani è con un gol alla messi di sala io penso che il liverpool sia il grande favorito quest'anno in premier c'è sempre il city sia chiaro ci sono sempre sei punti dei due scontri diretti da giocare e poi ci sono anche altri avversari di rango che possono togliere punti alle due big però io vedo il liverpool molto favorito grande favorito di questa premier league favorito non perché sia più forte nel manchester city che secondo me ha un qualcosina in più ce l'ha specialmente a centro campo ma per la motivazione cioè se non lo vince quest'anno non lo vince più questo è fuori di dubbio ha tutto per vincere la premier league quest'anno ha tutto io penso che fino alla fine ce la farà poi dio lo sa certo che negli ultimi ai tempi in premier league specialmente il liverpool è specialista in suicidi sembra un po' l'inter pre calciopoli comunque veniamo parlato già delle due big ora parliamo un po' delle altre allora le altre mi ha impressionato il celsi oddio ribadisco delle big six forse la più debole quest'anno il celsi però lampard ha azzeccato la formazione ha vinto la grande in casa del wolverhampton ha scoperto questo ragazzino che ha già fatto 4 5 gol questo avram ha fatto dei gol un paio di gol spettacolari a wolverhampton io penso che è una squadra che ci farà divertire anche perché prende molti gol non credo che riuscirà ad entrare tra le prime a 4 se devo fare il paragone con una squadra del calcio italiano a me ricorda molto il celsi di quest'anno ricorda molto il napoli del post maradona si fece un paio di buoni campionati ma lentamente andò in declino fino al fallimento ora chiaramente non auguro questo destino al celsi anche perché è una squadra che mi è simpatica ma difficilmente arriverà fra le prime a 4 fermo restando che il solo liverpool ha già quasi il doppio dei punti perché il celsi ha fermato punti come le altre grandi del calcio inglese come il manchester united che ha vinto molto a fatica con il leicester 1 a 0 sul calcio di rigore raggiungendo le sue rivali per il piazzamento in champions anche il manchester diciamo che lo vedo più o meno a livello del celsi magari un po' meglio perché ha giovani molto interessanti vedi rushford vedi quel ragazzo che fece gol l'altra volta vedi il terzino di origine africana che è molto bravo più o meno li vedo al stesso piano celsi e manchester non penso che riusciranno a insidiare ad entrare nelle prime a 4 questo è il campionato che i ragazzi di soski dovranno fare perché è una squadra in ricostruzione sia chiaro torna a vincere il tottenham è la mia la più grande squadra inutile del mondo la squadra inutile più forte del mondo no la squadra inutile più forte di tutti i tempi cioè che se torna a vincere se non vinceva dalla prima giornata una squadra che in campo a kane son, delealli, vertonghen, yori sportiere campione del mondo in porta la mela cioè ragazzi questi secondo me insieme all'arsenal hanno l'attacco più forte della premier ma sarà un sortilegio sarà quel che sarà questi praticamente non riescono mai a vincere nulla ecco da qui la definizione chiocconiato di squadra più inutile d'Inghilterra ma più che altro in ragione del suo enorme potenziale offensivo dell'enorme potenziale offensivo che ha questo questa squadra ha battuto netto 4-0 il Crystal Palace è una squadra che purtroppo fa vedere a sprazi le sue grandi potenzialità secondo me l'obiettivo del Tottenham sarà l'EFA Cup perché sia la premier scusate un po' di saliva deludita che sia la premier che la Champions League secondo me non sono la sua portata io penso che punterà i due trofei alle due coppe inglesi punterà il Tottenham tra l'altro l'EFA Cup che il Tottenham altro motivo per cui la definisco squadra inutile EFA Cup che il Tottenham non vince dal 91 cioè ci giocava ancora Gascogne cioè ragazzi di che stiamo parlando parliamo poi dell'altra grande dell'Arsenal che ha buttato una grossa occasione per mettersi a fare i punti con il Manchester City sto parlando dell'Arsenal Arsenal che dove si è fatto male la casette che ne avrà per un paio di mesi se non sbaglio Obama e Young due gol primo tempo sontuoso un gioco tutto di prima nel secondo tempo una difesa sconcertante quella dell'Arsenal un Gendusic che a me piace tantissimo inguardabile ha perso fatto un sacco di errori tant'è vero che dal 2-0 siamo andati al 2-2 non solo il Watford dall'ultimo ha rischiato anche di vincerla questa è un'altra motivazione per la quale le prime due sono i primi due posti secondo me sono ampiamente già assegnati non c'è poco da fare l'Arsenal con il Tottenham si giocherà il terzo posto anche se l'Arsenal io per l'Arsenal vedo un lungo cammino in Europa League secondo me ne è la squadra più forte una volta che riuscirà a recuperare la casetta poi il pallone tondo ah il pallone tondo è il solito luogo comunico in questi casi si dicono ah concludo il video per fare i complimenti a Patrick Cutrone che forse è stata l'unica nota positiva della domenica del Wolverhampton della partita del Wolverhampton il gol di Cutrone primo gol in Premier League un gol dei suoi di rapina sulla respeta del portiere faccio tanti auguri a questo ragazzo certo che ha una concorrenza abbastanza serrata nel Wolverhampton che ricordiamo anche se è partito un po' male in Premier era comunque una signora squadra magari con un paio di ritocchi a gennaio secondo me potrebbe addirittura insediare Chelsea e Manchester United poi chiaramente adesso ora come ora dovrà lottare per l'ultimo posto disponibile per andare in Europa League è quello il campionato che dovrà fare Wolverhampton insieme a Leicester insieme a West Ham insieme a Leverton insieme magari che so queste sono le quattro che si giocheranno il settimo posto l'ultimo posto utile per l'Europa League dato per scontato quello delle prime sei anche se secondo me una fra Chelsea e United potrebbe essere a rischio comunque ditemi la vostra ditemi se vi è piaciuto il video sulla Premier League iscrizione al canale buon pomeriggio con Grazie a tutti.